Il nostro progetto consiste e ha l'obiettivo di riformulare una nuova arte, una sfera in cui l'artista si siede e inizia ad elaborare attraverso logrammi, sculture, colori e ambienti un nuovo mondo. Il bisogno in sé è quello di far risorgere in un certo senso la vita, ovvero la creatività. Il messaggio che vogliamo lasciare dopo che una persona vede e impara a osservare all'interno della nostra macchina, vogliamo che riguardi il mondo che intorno è con occhi diversi.